Cosa conterranno gli Starter 8 e 9 del TCG di One Piece? Quali carte verranno utilizzate nel meta attuale e converrà acquistarli? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel TCG di One Piece sono molti i leader che hanno fatto la loro comparsa nei rispettivi Starter, partendo da Luffy Rosso, appartenente al deck chiamato Straw Hop Crew, fino a Yamato, che con la controparte nera di Cappello di Paglia hanno riproposto vecchie dinamiche di gioco, costruendo attorno ad esse mazzi sempre più pericolosi. Nel video odierno infatti analizzeremo le carte presenti in questi Starter, considerando infine se degli elementi in essi contenuti saranno utili per il meta attuale, a quale leader torneranno utili e che impatto avranno nel gioco, calcolando che là fuori tra Crocodile, Doffi e compagnia a braccietto, la competizione si è alzata notevolmente, prendendo in esame anche la fattibilità di acquisto che potrà darvi un quadro più completo, evitandovi brutte sorprese in fase di eventuali compere. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa conterranno gli Starter 8 e 9, rispondendo infine alla domanda, converrà acquistarli? Andiamo a dargli un'occhiata. Entrambe le scatole riprenderanno lo stile rivisitato proposto nel settimo volume, che ha visto Big Mom protagonista con le figure in primo piano rispettivamente di Luffy a costo 3 e chiamato leader, assieme al titolo del gioco e al numero di riferimento nella parte frontale. Unicamente uno scorcio di queste ultime informazioni lungo i fianchi, sia destro che sinistro, solamente il nome dello starter sulla parte superiore ed il contenuto della scatola, con tutte le informazioni legali del caso, descritte sul retro della confezione. I deck proporranno più che altro dei supporti ad altri mazzi già esistenti nel basso meta attuale, che vedranno proprio i protagonisti di questi starter condurre la carica. Luffy comunque ha dimostrato il suo valore in un grande torneo da più di 1000 partecipanti, piazzandosi secondo. Segnale che Cappello di Paglia, attraverso i giusti supporti, può dire la sua in un evento importante, soprattutto per il suo effetto, che vedrà segnargli un don esaurito ogni volta che un caratter sul terreno verrà distrutto, rendendolo un avversario temibile anche per leader più che affermati come Barba e Zoro. Mentre per Yamato, i piazzamenti importanti sono arrivati, ma esclusivamente nei local, o almeno questo è quello che ho visto personalmente, ma sarò più che felice di ricredermi se me lo farete notare. E non apporterà grandi sostegni a mazzi presenti nel meta attuale, come Katakuri, Big Mom nelle sue due versioni, e l'attuale Queen. E non credo vedrà elementi presenti nel suo deck in ciurme come quelle di Enel in P05, quindi il tutto verrà ristretto al solo impiego intranos, ovvero usufruire di alcune carte utili unicamente per il leader in questione, vedasi la controparte character costo 5, che il più delle volte non verrà nemmeno presa in considerazione, e l'event Narikabra Arrow. I deck in questione comunque faranno quel che i loro rispettivi colori hanno sempre fatto, ovvero per Luffy abbassare i costi dei caratter avversari, distruggendo pezzi vari sulla board, anche grazie all'aiuto di Shanks, che se impiegato nel momento giusto fungerà come una sorta di vratta, e dallo stesso tempo imporrà la sua gigantesca presenza sul board, permettendo inoltre al proprio leader di potenziarsi attraverso il suo effetto. Infatti, grazie ad elementi come Uta, Shiraoshi, Higuma e l'event Gangnam Bell, renderete preda facile ogni singolo personaggio avversario, per l'effetto di distruzione del già menzionato Shanks, di Kobe e dell'event Gangnam Pistol. Mentre per Yamato la gestione delle vite sarà fondamentale, dato che si giocherà molto attorno a questa dinamica tipica del giallo. Se ne possiederete due o meno, assegnando un don al leader, gli fornirete più mille forza durante il turno rivale, e carte come Tempura, Kaido, Ace, la controparte dello stesso leader a costo tre, ed entrambi gli event, Thunder Bagua e Narikabra Arrow, faranno di questa meccanica un punto a proprio favore. In più, con l'ausilio di Oden, Shinobu, Ushimaru e i pezzi piccoli ma allo stesso tempo potenzialmente micidiali come Ulti, Momonosuke, Omusubi e Luffy, possiederete anche una struttura che, alla lunga, potrà tornarvi più che utile. Gli starter di Luffy e Yamato verranno venduti ad un prezzo indicativo di 15€. Il primo avrà carte che, per quanto riguarda il nero, verranno impiegati in determinati deck, come lo stesso Luffy e alcune versioni di Smoker e Luci. Mentre per Yamato, le uniche due carte a disposizione del giocatore potranno essere lo stesso leader e l'evento Narikabra Arrow, escludendo letteralmente, almeno per il momento, il buon 98% dell'intero mazzo. Quindi consiglio l'acquisto dell'otto sconsigliando purtroppo quello del 9, o almeno al momento. Perché? Perché mai dire mai nel TCG di One Piece, dato che più di una volta si è andati diretti nell'affibbiare il titolo di Inutile ad una carta. Vedasi ad esempio Sogeking, che al momento dell'uscita di OP03 aveva un valore di circa 1 o 2€. Mentre ora, che è diventato un elemento più che giocato in Crocodile e in alcune versioni di Nami, Duffy e Rebecca, ha visto inalzare il suo costo fino ad una media di 15€ cada uno. Quindi aspettiamo e vediamo come evolverà il meta con il passare dei set. Come sempre, se vorrete procedere all'acquisto di questi starter, consiglio di prenderne due, così da avere il playset completo di ogni carta, pronta per essere inserita all'interno di qualsivoglia deck vorrete montare. O, all'occorrenza, se sarete nuovi del gioco e vi verrà in mente di sperimentare il funzionamento di uno o addirittura entrambi i leader, vi lascerò le rispettive liste che comprenderanno unicamente gli elementi presenti negli starter in descrizione. E attraverso la grafica che state osservando in questo momento, così da poter provare con gli amici che avranno intenzione di salpare con voi alla volta del tesoro lasciato in eredità da Gold Roger le dinamiche di queste due tonalità. Se sarete dei principianti, infatti, questi starter forniranno un valido asset da cui partire, dato che a livello di dinamiche non richiederanno una skill elevata, garantendo a chiunque li vorrà utilizzare un'esperienza ludica, gradevole e senza troppe meccaniche da dover ricordare. Basterà dare uno sguardo alle basi. E voi, quale dei due leader in questione giocherete per sfidare altri aspiranti re dei pirati in match all'ultima palla di cannone? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.